Cari mondi, dal profilo immenso di molti armenti e fiori grembo ferace, perché cessaste di profumar d'incenso? Era la mia abitazione. Poi con il terremoto ha cambiato aspetto la via. No, perché si vedono, ecco si riconosce. La strage è in un'opera, la scuola è in un'opera. No, 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 no. Il, il terra e la scuola è stupendo, il maio che è in questo. Aleppo, prima del guerra, era l'epoca di Organs. Il nome di dei situazioni che sono stati da per oorlogi o di rancp. Ma cosa succede quando il piaccio è di ridotto? La vita deve accepterare quello che si ha perduto e creare il suo destino con quello che è ancora di più. Sì, sì, sì. Grazie a tutti.